Questa dilattazione e questo vuoto di tutto dal punto di vista dei rumori, dal punto di vista dell'invisibilità per esempio delle persone, se non andandole a cercare, poi trovandole in realtà molto svegliative, però che nel luogo fisico non appaiono e quindi è una specie di luogo vuoto in cui tutto quello che accade risuona con grande nitidezza. Questa grande fissità, questa grande eternità e immutabilità in realtà provoca, a quanto visto nelle persone, un certo movimento interiore, per cui questo è un luogo in realtà più di passaggio che di distanzialità, estremamente potente. Il Sopraluogo è stato fatto qua, ha preso subito, ha avuto subito la natura di una collaborazione a partire da l'ideazione piuttosto paritaria, piuttosto coraggiosamente aperta fin da l'inizio, a testare veramente da zero le possibilità di una creazione collettiva. L'idea di creare qualcosa di una creazione di diversi culturali diversi culturali, è stato stimolato artisticamente e humainmente. Super, siamo finalmente fare qualcosa insieme. Poi, ancora meglio, non siamo tutti soli, siamo anche con gli italiani. E questo è stato un po' un po' di rifi, perché confrontare le metodese, le metodese, le metodese, le metodese, come si può fare un trucco insieme, mentre abbiamo delle approche molto diverse. E questo è il tipo di question che mi interessa. Chacun viene con un filo diverso, con una lingua differente, e questo è quello che mi sento, e che sta creando un tipo di tessuto. Depo due giorni, ci sono altre cose che arrivano a me. Durante alcuni giorni, ho avuto anche la sensazione di essere confrontata a miei limiti. E ho pensato che la creolazione mi confronta anche a questo, come sono pronto a ricevere quello che l'altro ha voglia di ammettere. Ho avuto questa occasione, questa notion di creolazione, che non ho mai mai parlato. Quando Anne mi ha chiamato, mi ha chiamato, mi ha chiamato, mi ha chiamato Edouard Guisson, tu conosci? E mi ha chiamato Edouard Guisson, mi ha chiamato Edouard Guisson. E non, quindi c'è su internet, la creolazione, ah sì, sembra interessante. E poi, sì, io trovo questa notion, questa idea di creolazione, un truc, una direzione che è veramente interessante. È molto interessante che questo lato qua, di apertura, una specie di tavola rotonda, fra noi artisti, fra il territorio, eccetera, eccetera, forse anche la natura dell'ultima giornata, o dell'apertura, o della giornata in cui si riconsegna un risultato, in cui si mette un punto a uno spazio di due settimane che si è aperto. E' un'altra cosa, Grazie. 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 Grazie.